In questo video rispondo a questo commento, grazie mi hai salvato la vita. Anonymous non ti conosco, quindi non credo di averti salvato la vita, ma mi piacerebbe non tanto salvarti la vita, ma potertela stravolgere. Lo staff di Libera le Tue Parole è stato creato per questo, cioè, non so se mi conoscete, io mi chiamo Ottavio Lombardi, ho balbettato per tanti anni e da quando ho capito come fare a parlare fluentemente, quindi a liberare le mie parole, ho deciso di mettere a disposizione di tutte le persone che soffrono di balbuzie, tutte le conoscenze che ho maturato in questi anni, in tanti anni di lavoro su di me, di ricerca, di sviluppo, ma soprattutto di fallimenti, perché ho fallito tanto, nel senso che sono caduto tante volte, perché non avevo una guida, non sapevo come fare, io ho fatto tanti corsi per provare a smettere di balbettare, nessuno di questi mi ha aiutato, e quindi me la sono dovuto cavare da solo. In questi corsi sulla balbuzie mi insegnavano solo delle strane tecniche, ma smettere di balbettare non è un fatto tecnico, è un fatto di mentalità, quindi devi proprio smettere di ragionare come un balbuzziente, questa è la cosa fondamentale. Ma non smetterai mai di ragionare come un balbuzziente se prima non cominci comunque con una base tecnica. Non è un caso che per aiutare tutte le persone che potete vedere nelle sezioni testimonianze del sito internet liberaletueparole.com, cioè la sezione delle testimonianze che è la più ricca in tutta quantità, ne abbiamo tantissime, decine, 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 Cioè si vedono quelle scritte con fotografia nome e cognome, si vedono quelle in video, quelle in video in diretta, cioè ci sono così tante testimonianze che vi stancherete a vederle tutte. Per riuscire a ottenere, cioè tutte queste testimonianze è perché garantiamo risultati, riusciamo a fare ottenere risultati, i risultati li facciamo ottenere tramite che cosa? Tramite un vero e proprio sistema di allenamento scientifico che abbiamo chiamato 20-70-10, perché serve un lavoro tecnico che è solo il 20%, ma poi c'è un lavoro strategico con il coach, dove vi accompagni a fare degli esercizi, e poi c'è un lavoro mentale 70%, quindi pensate quanto è il lavoro mentale. Quindi smettere di balbettare è un lavoro mentale, ma che non potrò mai cominciare se prima non passo per un lavoro che devo fare prima. Prima devo cominciare una base tecnica, prima devo cominciare un attimo a capire come muovere la bocca e a gestire l'aria senza più produrre blocchi nonostante la balvuzzi. Quindi questa è la cosa. Questa cosa può stravolgerti la vita se la impari? Sì, te la stravolge la vita, perché la libertà di poter dire tutto quello che vuoi, come vuoi, quando vuoi, ti stravolge la vita perché è troppo bella, io te la auguro questa libertà anonimus. E quindi non voglio salvarti la vita, ma te la voglio stravolgere. Se vuoi farti stravolgere la vita, sono felicissimo, lo staff di Libera le Tue Parole sarà felice di poterti aiutare. Contatta qualcuno dello staff, c'è il numero verde gratuito, c'è il numero whatsapp, c'è la mail, insomma. Puoi contattarci in tutti quanti modi, se non hai voglia di contattarci al numero verde gratuito perché c'è paura di parlare e ti capisco perché io non avrei mai chiamato un numero verde, mai, perché con la balvuzzi mi sarei cacato sotto, ovviamente, questa è la cosa. Uso il termine corretto. Puoi iscriverci su whatsapp, quindi contattaci, fatti spiegare come poter accedere al weekend di prova dove hai tre giorni per poter capire se questo percorso fa per te o meno, se ti piacciono, alla fine ti iscrivi, se non ti piacciono non ti iscrivi, questa è la cosa. E quindi partecipa e poi dopo vedi. Sono felice se riusciamo a stravolgerti la vita, altrimenti io ti auguro un grandissimo bocca al lupo e soprattutto ti auguro tanta, tantissima libertà. Mi raccomando, studia, applica e libera le tue parole. Ciao!